allora sono venuto a conoscenza di questa clinica tramite un mio amico che era già venuto qua e io sono di torino vengo appunto dall'italia a torino e ho poi appunto visto tutto su instagram e ho contattato la clinica sono stati subito molto disponibili molto molto veloci in tutto quanto ho prenotato appunto il mio volo loro mi hanno fissato la data qua qua a istanbul dove in tutto quanto mi sono trovato veramente molto molto bene molto ospitali tutti molto gentili a partire dalla clinica a partire dall'hotel dove ho prenotato e diciamo è stato tutto tutto perfetto mi sono finale lo vedete non posso essere più che veramente soddisfatto e contento quindi ringrazio tutti quanti